Ciao ragazzi, è venuto in questo nuovo video, parliamo di Douglas Luiz, visto che ora c'è la sosta delle nazionali parliamo un po' dei giocatori e vediamo la situazione perché come tutti sappiamo, come tutti noi ventini, siamo in questo momento delusi dal giocatore Douglas Luiz in campo l'abbiamo visto anche relativamente poco rispetto alle partite giocate anche se sono in totale 9, però si pensava ad un giocatore diverso però prima di partire vi invito a mettere like a questo video fate come gli ultimi giorni che mi avete fatto veramente molto felice iscrivetevi al canale, condividete il video su tutti i vostri social e commentatelo dopo averlo visto fino alla fine e mi raccomando ragazzi guardate il video fino alla fine perché vederlo il video per 50 secondi, un minuto, due minuti non ha senso allora, parliamo di Douglas Luiz ripeto, tutti noi juventini o anche tifosi di altre squadre testate giornalistiche, giornalisti indicavano come Douglas Luiz il colpo è della Juventus a centro campo anche per il prezzo, 50 milioni di euro ok, però dopo di quella partita, dopo dell'acquisto e dell'amichevole fatta adesso non ricordo chi, sono tratto di comadrid, un'altra squadra si vedeva che comunque aveva dei piedi buoni e faceva i bei assist e il giocatore che serviva alla Juventus ok, però dall'in poi, dalla prima giornata di campionato in poi diciamo, l'abbiamo visto a Sprazi da Douglas Luiz abbiamo visto fare errori nelle ultime due partite dove ha regalato due rigori a squadre avversarie uno all'Ipsia e uno al Cagliari con l'Ipsia è stato, diciamo, ininfluente alla fine del risultato perché abbiamo vinto con il Cagliari invece è stato molto determinante perché poi la partita è finita 1-1 appunto con il rigore dato al Cagliari su un fallo di Douglas Luiz allora, vediamo un po' qua un articolo poi parliamo anche noi si dice, non lo sapevamo che si era aperta la stagione della caccia i cacciatori delle diverse stessate mediatiche hanno deciso che deve essere il sacrificato ha un nome, che chi deve essere il sacrificato e il nome è Douglas e un cognome Luiz il brasiliano è l'oggetto preferito e la parola più dolce in flop noi aspettiamo come gli indiani sulla riva del fiume di Sidice aspettiamo di capire qual sarà veramente il valore del brasiliano consapevoli e fiduciosi che non possa essere quello che abbiamo visto fino ad ora e tutti lo speriamo i giocatori in premier facevano la differenza fate ragazzi, se avete partito con l'Arston Villa facevano la differenza facevano la differenza come la facevano anche Coop, Minas e l'Atalanta ma entrambi, per una votazione o per l'altra non sono ancora riusciti a rendere come si sperava o come si credeva che si potesse fare o si dovesse anche fare ok? nel frattempo i dettattori della Juventus che sparano pesante su Douglas Luiz lo definiscono un grande flop io ho sentito giornalisti o anche ex giocatori definire questo giocatore un flop quando a luglio o agosto dicevano che la Juventus avesse fatto un grande flop quindi bisogna essere obiettivi io non sono un esperto di calcio non sono un ex giocatore non sono un giornalista quindi io da Juventino io parlo da Juventino posso dire che ora sono deluso sono deluso dal giocatore in questo momento sperando sempre che si possa riprendere però giocatori o giornalisti che fanno questo lavoro fanno il lavoro questo mestiere qua ovvero vedere i giocatori hanno visto che a Lastonville la faceva molto bene quindi si devono domandare il motivo per cui ora è così non è che un flop e basta qualcuno dice fece un pacco qualcuno dice un giocatore è sopravvalutato indirettamente perché quello è il fine ovvero provano a colpire chi l'ha scelto dicendo che l'investimento è stato di 50 milioni senza considerare che healing e varie recente difficilmente li avreste piazzati con quel timing a quelle cifre se non a quella condizione poi questo è un altro paio di maniche ma lasciamo perdere tutti abbiamo definito il colpo di Douglas Luizio come un grande colpo un giocatore che può fare la differenza ora va aspettato capito e incoraggiato che vantaggio cioè metterlo all'angolo dopo 9 partite nessuna perché poi non sarà un Zidane speciale a novembre in Juventus Inter ma non crediamo neanche sia un Tiago un Tiago una Juventus mamma mia ragazzi con il giocatore la famosa lavatrice arrivata anni fa che non lavava non stendeva niente e nemmeno quel Diego che arrivava dalla Germania è deluso deluso molto Diego perché io puntavo molto su Diego quindi speriamo che non sia lui quindi qualche mese fa tutti ad esaltare il colpo oggi tutti a criticare pazienza zero coerenza zero equilibrio zero le dote ci sono qui ragazzi sono indiscutibili vanno inquadrate ci vuole pazienza e molta fiducia aspettiamo sediamoci lungo la riva ed aspettiamo io ragazzi sono sempre fiducioso perché io ormai a certe età mi ricordo se forse qualche più giovane non se lo ricorda c'era un certo Zidane un certo Zidane che è arrivato alla Juventus fece molto scappone all'inizio perché non era quello che tutti ci aspettavamo doveva essere il grande colpo il giocatore del centrocampo che faceva la differenza che esaltava che faceva tre minuti e non fece niente non fece proprio niente poi arrivò quella partita dove si è sbloccato magicamente Juventus Inter ok a novembre ed ecco lì che scusate ragazzi ed ecco lì che poi divenne il giocatore che tutti abbiamo conosciuto il giocoliere diciamo il funambolo il fenomeno veramente un fenomeno come giocatore ragazzi quindi aspettiamo perché poi adesso oggi siamo il 9 ottobre ok ora c'è la sosta per le nazionali poi ci sarà Juventus Lazio e a ridosso a ridosso di novembre se non sbaglio c'è Juventus Inter o Inter o Juventus e o metti putt'a caso che la partita proprio tra Juventus e l'Inter sia la partita proprio per far sbocciare come fece Zidane quasi 30 anni fa quasi 30 anni fa se non sbaglio si sembra intorno al 96 mi sembra quindi 28 anni fa come fece tanti anni fa comunque Zidane che poi se poi si sblocca diventa il giocatore che tutti abbiamo conosciuto all'Aston Villa allora lì ci sarà da ridere noi rideremo e le altre squadre forse saranno lì forse siamo sbagliati abbiamo parlato troppo presto perché in questo in questo paese soprattutto questo paese che del calcio siamo 60 milioni di come si dice 60 milioni di allenatori tutto quante basta che un giocatore fa male una partita viene subito addocchiato come un flop basta che uno fa una bella partita viene addocchiato come un giocatore fenomeno e no purtroppo non è così purtroppo non è così neanche dopo una stagione fatta bene un giocatore può essere definito un fenomeno diciamo un buon giocatore un ottimo giocatore va visto in più stagioni va visto in più stagioni come io ricordo sempre a tutti voi che Tiago Motta per aver fatto bene una stagione al Bologna non può essere definito un ottimo allenatore è un buon allenatore che ha delle idee interessanti e vanno messi in pratica ma ci vuole tanto lavoro tanto lavoro prima di diventare un ottimo allenatore ci vuole molto tempo quindi speriamo come andrà quest'anno l'anno prossimo dopo lì si può definire se fa delle prestazioni eccellenti si porta in alto in campionato avanti in Champions League e tutto quanto allora si può definire un allenatore davvero interessante e un ottimo allenatore tutto qua quindi tutti quelli che sparano sull'Anglo Suizia ma anche noi Juventini perché noi Juventini parliamo perché siamo delusi da questo giocatore qua ma io vedendo indietro quello che ha fatto la Stone Villa non vorrei che fosse stata una stagione così extra per dire dove andava tutto bene e ha fatto 10 gol 10 assist io non penso che sia un giocatore da proprio flop non sia neanche un extraterrestre quello che abbiamo detto tutti ma è un giocatore che ci sa fare con i piedi e basta che faccia il minimo lavoro invece di fare passaggi in orizzontale faccia in verticale facesse qualche asset qualche attaccante all'attaccante diciamo che noi abbiamo Vovovic sarebbe cosa buona e giusta solo che adesso lo vediamo molto in difficoltà non si è ambientato forse l'Italia non è come l'Inghilterra avrà la Saudagi non lo so però c'è qualcosa da mettere a posto io ho detto sempre che questo giocatore qua va preso messo vicino un mental coach fagli spiegare vedere quale sia il problema che lo blocchi e poi farlo giocare però che sia un flop non me lo auguro e neanche lo penso io che sia questo qua però vediamo ora da qui anche fino a dicembre se si è sbloccato o seppure a fine dare ragione agli altri che dicevano che era un flop e all'Atalanta e alla Sonvilla ha fatto un anno così per caso a questo punto spero di no ma vediamo ragazzi fatemi sapere questo altro ragazzi cosa ne pensate se per voi un giocatore flop se è un giocatore interessante se è un ottimo giocatore un fenomeno ditemi la vostra mettete like iscrivetevi al canale condividetevi su tutti i vostri social fino alla fine forza Juventus e ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao